Ehi in armi e shise per alle vai e iurda Io hit the club e sono un guarda Buongiorno a tutti ragazzi In questo nuovissimo video qua Rosso sangue E quest'oggi parleremo di quello che faccio Quando io devo andare a carini E ragazzi adesso Cerco di inquadrarvi Di cerco No mi metto così Sono a carini Ehm Ehm Cioè vi farò vedere Che cosa farò in macchina mentre sono a carini Lo so questo video non ha assolutissimamente senso Ma l'ho voluto fare Perché non so come distinguere altri contenuti Quindi ragazzi Aspettatevi che non vi preoccupate Perché i contenuti verranno Comunque e sempre Ehm Questo video è un po' Tipo quando non sai cosa fare E spari minchiate e fai qualcosa Eh ragazzi questo Ehm niente ragazzi Vi lascio la mini clip Di un minuto Questo video durerà Zero secondi Ma vabbè Iscrivetevi Lasciate like E qua E niente Bella Vi lascio la clip Aspettate di un minuto Aspettate di un minuto Aspettate di un minuto Adesso Aspettate di un minuto Grazie a tutti. Grazie a tutti.